Per recuperare i luoghi culturali dimenticati, il Governo nazionale mette a disposizione 150 milioni di euro. Fino al 31 maggio prossimo tutti i cittadini potranno segnalare all'indirizzo di posta elettronica bellezzachiocciolagoverno.it un luogo pubblico da recuperare, ristrutturare o reinventare per il bene della collettività. E Gela si muove subito per le mura a Timoreontè di Caposoprano. Peppe Laspina del gruppo archeologico d'Italia, Gelo e Triskelion. Un luogo sicuramente da reinventare, un luogo storico di grande importanza. Sappiamo che a partire al periodo del IV secolo a.C. è un esempio unico di fortificazione con un alzato in mattoni crudo che si è conservato in modo straordinario e che all'interno dell'area conserve anche dei resti abitativi della città. È un parco che dobbiamo cercare di valorizzare e quindi vi invito a inviare una mail a bellezzachiocciolagoverno.it segnalando il parco archeologico delle mura di Caposoprano. La Proloco Gela, sempre molto sensibile ad ogni iniziativa di recupero e potenziamento del bene comune, sottolinea che il sito archeologico delle mura, poco utilizzato e valorizzato, merita certamente di diventare una bellezza d'Italia. Una delle promozioni che facciamo noi come Proloco è proprio quello di far prendere coscienza e atto sia ai bambini sia ai grandi di questo bellissimo patrimonio. attraverso il social network che è uno dei canali più utilizzati attraverso i giovani e questo ci permetterà sicuramente di far prendere coscienza di ciò che abbiamo e quindi rispettarlo con la conseguenza che verranno molti da fuori ad apprezzare ciò che abbiamo realizzato qui a Gela. Già le mail sono state inviate? Le mail sono già partite, stiamo attraverso gli amici del social network facendo in qualche modo una grande pubblicità in questo senso e a quanto pare tutti aderiscono perché l'idea è abbastanza interessante.